È durata pochissimo la fuga dei tre malviventi che ieri hanno minacciato con una pistola il proprietario di un appartamento che rientrando con la famiglia le aveva sorpresi a rubare. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato tre nomadi, un rumeno di 24 anni e due italiani di 32 e 29, quest'ultimo pratese. Tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio sono finiti in carcere con l'accusa di rapina. Nella loro auto i carabinieri hanno trovato un bel po' di refurtiva, soprattutto gioielli e tutto l'occorrente per entrare in azione, passamontagna, guanti, torce, cacciaviti e ricetrasmittenti. È stata l'immediata richiesta di aiuto fatta dalla vittima del furto, un cinese residente in via Casale Faticci, a chiudere ogni via di fuga ai tre nomadi trovati dai carabinieri ancora in zona. L'arresto di questi tre pregiudicati, subito dopo che avevano commesso una rapina ai danni di un cittadino cinese, ma riteniamo che avessero commesso altri furti perché non prendevano di mira solo i cittadini cinesi. Insomma l'importante era arrivare al risultato, entrare nelle abitazioni, prendere quello che era possibile prendere, eventualmente anche minacciando o ponendo delle reazioni anche violente. Furti in serie dunque, questa l'ipotesi, almeno a giudicare dalla quantità di refurtiva sequestrata in parte già restituita. Il cinese è potuto rientrare subito in possesso di due giubbotti di marca del valore di 1.500 euro, di 460 euro.